buongiorno amici comincia oggi una nuova settimana di borsa come al solito vediamo insieme quelle che sono le notizie più importanti dal punto di vista finanziario che possono impattare sul mercato lunedì dalla germania alle ore 8 del mattino l'indice sulla fiducia delle aziende è un indice che serve a determinare quello che è il sentiment e le condizioni del settore aziendale nella zona euro nello specifico dalla germania alle ore 15 parlerà il presidente della bce mario draghi martedì 25 settembre alle ore 16 dagli stati uniti d'america il rapporto sulla fiducia dei consumatori ancora un indice che determina il sentiment sull'andamento economico mercoledì 26 settembre una sfilza di dati dagli stati uniti a partire dalle ore 16 con la vendita delle nuove abitazioni quindi il settore immobiliare alle 16 e 30 il classico dato sulle scorte di petrolio greggio mentre a partire dalle 20 avremo le proiezioni economiche del FOMC le decisioni del FOMC sulle politiche monetarie future da adottare sempre alle 20 la decisione del FOMC sul tasso di interesse alle 20 e 30 avremo poi la conferenza stampa del FOMC attraverso la quale potremo andare a valutare i motivi delle decisioni prese giovedì 27 settembre i dati arrivano dalle 14 e 30 dagli stati uniti ed è il dato sui principali ordini di beni durevoli alle 14 e 30 ancora dagli stati stati uniti il valore del PIL su base trimestrale il valore del secondo trimestre alle 15 e 30 di nuovo il presidente Mario Draghi parlerà alle ore 16 invece parlerà il governatore della bank of England Carney alle ore 16 un dato dagli stati uniti contratti pendenti di vendita di abitazioni mentre alle 22 e 30 ancora un discorso del governatore questa volta quello americano governatore della Fed Powell passiamo a venerdì 28 settembre nella notte alle 3.45 dalla Cina un importante dato sull'indice manifatturiero alle 9.55 invece avremo la variazione della disoccupazione in Germania quello il dato riferito a settembre alle 10.30 due dati dall'Inghilterra il PIL su base annuale riferito al secondo trimestre e il PIL trimestrale sempre riferito al secondo trimestre alle ore 11 un dato dalla zona euro l'indice dei prezzi al consumo su base annuale il valore riferito al mese di settembre bene queste erano le notizie tra l'ultimo giorno di questa settimana ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con Amica Borsa